mi vuoi ancora amore la merenda di oggi che cos'è la torta? adesso vi svelo che torna con la panna ma adesso vi svelo che cosa c'è dentro all'interno di questa torta che se te lo avresti detto prima mi avresti detto no non la voglio burro di mandorla questa torta è fatta con burro di mandorla senza farina buona?